Gentili telespettatori, buona giornata. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dice ecco qual è il problema con Salvini. La leader di Fratelli d'Italia spiega sono questioni politiche, non personali, e pretende chiarezza dagli alleati o ex alleati. Preferiscono l'alleanza di centrodestra o quella con PD e Movimento 5 Stelle? Beh, in questo momento non è che preferiscano una cosa o l'altra, ma realmente sono in un governo con PD e 5 Stelle, pertanto attualmente sono alleati. Sarà per un governo di unità nazionale, sarà quel che sarà, ma effettivamente oggi sono alleati. Sono alleati, su questo non c'è dubbio. Se preferiscano l'alleanza di centrodestra o quella con PD e 5 Stelle, a questo punto non ve lo so dire, perché Matteo Salvini ieri, l'altro ieri, diceva che lui non aveva niente a che fare con persone, con partiti politici la cui ideologia era stata sconfitta dalla storia. Ovviamente si riferiva a Fratelli d'Italia. Il giorno dopo diceva, noi non centriamo niente con loro, come se fosse stato influenzato da qualcuno, o qualche sospetto, però insomma a questo punto non è solamente che loro fanno parte di un governo assieme alla sinistra, ma la questione è appunto, preferiscono un governo con la sinistra piuttosto che stare con Giorgia Meloni in una coalizione? Oppure, la domanda è ancora diversa, non è che preferiscono distruggere il centrodestra piuttosto che vedere Giorgia Meloni premier, perché se un centrodestra è unito e va alle elezioni e vince, in questo momento il primo partito è quello di Giorgia Meloni, Giorgia Meloni diventerebbe premier. Non è che questa distruzione del centrodestra sia comunque inconsciamente voluta per evitare di far governare Giorgia Meloni? Come dire, meglio senza Giorgia Meloni come premier, piuttosto che, come dire, meglio niente? Cioè, o posso governare io come Salvini o allora non governa nessuno come centrodestra, lasciamo spazio libero al centro-sinistra. Ma Giorgia Meloni dice, ma non è questione politica, sono solo questioni politiche non personali. Diciamo che queste due cose si intrecciano, sono sia questioni politiche che anche personali. C'è la questione politica e anche l'invidia del Lei con il suo partito mi portano via voti, sono stati fuori dal governo così da stare lì ad aspettare i voti. In realtà però c'è da dire che i voti, il travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia è un travaso che era già cominciato molto prima del governo attuale Draghi. Quindi non è una questione che Giorgia Meloni è rimasta fuori per portare via voti a Salvini. Gli li portava via anche prima, quando non esisteva il governo Draghi e quando Salvini era all'opposizione con Giorgia Meloni. Però i rapporti nel centrodestra sono ormai segnati da quella che è stata l'elezione del Quirinale, dove, come voi sapete, Salvini, disattendendo gli accordi nel centrodestra, ha preso ed è andato a trattare col centro-sinistra. Così la Meloni intervenuta ai microfoni di Radio 24 ha specificato che con Matteo Salvini i problemi sono questioni politiche e non personali. La porta nei suoi confronti non è chiusa, bisogna vedere se sarà poi possibile ricostruire i rapporti con la Lega, soprattutto in vista delle elezioni che dovrebbero tenersi nel 2023. La spaccatura nel centrodestra però non può passare inosservata e perciò la numero uno di Fratelli d'Italia ritiene necessario interrogarsi sui partiti della coalizione. Agli alleati rivolge una domanda ben precisa. Dice, cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra, costi quel che costi, o preferire l'alleanza col centrosinistra, se non conviene quella col centrodestra? Dice la Meloni, che ha rivendicato la scelta di essersi dissociata dalla linea di Forza Italia e Lega nell'elezione del Presidente della Repubblica. Non sono io che devo fare chiarezza, devono fare chiarezza gli altri. E in effetti ha ragione, nel senso che non è lei che deve fare chiarezza, non è lei che ha fatto eleggere Mattarella, non è lei che è andata a prendere gli accordi con la sinistra. Insomma, le dichiarazioni di Giorgia Meloni contro Salvini sono fatte perché Salvini si è comportato in un certo modo. Non è che Giorgia Meloni si è svegliata una mattina e ha cominciato ad attaccare all'improvviso Matteo Salvini. Lo ha fatto come difesa per aver ricevuto comunque delle male parti, chiamiamole così. Giorgia Meloni ha fatto sapere di aver apprezzato e condiviso la posizione della Lega che nell'ultimo Consiglio dei Ministri non ha votato il provvedimento che prevede una divaricazione tra studenti vaccinati e non vaccinati. La Lega poi ha espresso per pressità per questo motivo, non ha dato il via libera, però forse anche lì sembrava proprio il caso per sollevare un polverone a fronte di quello che era successo col Quirinale, che probabilmente Salvini forse ci avrà anche ripensato, chi lo sa. Alla fine vince sempre il ministro Speranza, per cui adesso quando il decreto arriva in aula che fanno? Lo votano o no? E' su queste cose che bisogna fare chiarezza. Quindi Giorgia Meloni dice, visto che Salvini con la Lega da quando c'è il governo Draghi hanno sempre in Consiglio dei Ministri fatto queste cose qui, ci alziamo, non lo votiamo, e poi arriva la legge in Parlamento e viene votata. Quindi dice come? Prima dice una cosa e poi ne fanno un'altra. Allora, visto che vi siete alzati l'ultima volta di nuovo e avete detto no, a questo punto se siete coerenti in Parlamento dovreste votare no. In effetti ha ragione. Se sono coerenti dovrebbero votare no. Nella giornata di ieri il presidente Mattarella poi ha giurato e ha tenuto il discorso di insediamento. E dice la Meloni, considero quella di ieri una risposta e mi aspetto che in coerenza con quanto detto ieri ci sia un passo significativo nella sua attività rivolto a Mattarella. Grazie a tutti e arrivederci.